Anche per quest'anno abbiamo nel nostro stand Givi che vi ricordo è nel padiglione 13 M58-62 abbiamo l'angolo Givi Explorer. Givi Explorer vi ricordo è un portale che è stato creato da Givi per aggregare tutti i viaggiatori nazionali e internazionali e creare un punto in cui voi potete non solo vedere tutti i viaggi che i nostri viaggiatori hanno fatto in giro per il mondo ma potete anche caricare il vostro, sottoporre il vostro e eventualmente sottoporre il vostro progetto perché magari Givi vi sponsorizzerà nella vostra prossima avventura. Andate sul portale, iscrivetevi il sito è www.giviexplorer.com e lì troverete tutte le informazioni, tutto quello che dovete sapere per i viaggi, i trucchi del mestiere, come caricare il vostro materiale, che prodotti vi consigliamo e cosa hanno fatto tutti i vostri compagni in giro per il mondo sulle loro moto.